I 5 milioni di articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara sul mercato delle feste di Natale avrebbero fruttato la cifra a capogiro di 10 milioni di euro. La merce era in gran parte costituita da articoli e accessori di elettronica, ma c'erano anche le luminarie per il Natale, gli articoli di bigiotteria e dei casalinghi, tutti privi dei requisiti minimi di sicurezza e soprattutto della marcatura CE. I prodotti erano in vendita in alcuni negozi gestiti per lo più da cittadini cinesi e bengalesi. Le indagini contabili hanno permesso di ricostruire l'intera filiera commerciale illecita, riuscendo ad individuare in Campania e nel Lazio quattro società gestite da cittadini di nazionalità cinese che si occupavano di importare la merce non sicura e poi di distribuirla all'ingrosso. Per questo sono stati denunciati i quattro responsabili delle suddette società per il reato di frode in commercio e ricettazione. I finanzieri hanno provveduto anche a segnalare alla Camera di commercio altre quattro persone e titolari di aziende, nei cui confronti sono state applicate sanzioni per un totale di 100.000 euro.